Buongiorno a tutti, oggi vi ho preparato due varianti e andiamo a vedere la domanda Mi posso fidare di quella persona? Potrebbe riferirsi a qualcuno in ambito relazionale, quindi partner oppure anche amici, familiari, magari colleghi, datori di lavoro. Assolutamente può riferirsi a qualsiasi tipo di situazione, di circostanza. Allora, la prima variante è un arcano ridisegnato che raffigura la morte, il secondo invece è un arcano, sempre di quelli ironici che avevo l'altro giorno che rappresenta la ciambella, il donuts, quindi vi faccio vedere da vicino le due raffigurazioni. Voi cercate di concentrarvi e di focalizzarvi, non scegliete con la mente razionale ma utilizzando l'istinto, l'intuito. Se avete bisogno di più tempo mettete in pausa il video. Io procedo direttamente con la variante numero uno che è quella della morte. Ed eccoci qui con la variante numero uno, andiamo a vedere subito con i tarocchi, poi andremo ad approfondire anche con l'altro mazzo e in fondo alla stesa andiamo a chiedere anche un consiglio agli oracoli. Allora, potete fidarvi di questa persona. Possiamo fidarci di questa persona. Non le prendo ragazzi perché è stato un mio sbaglio nel mischiare. Vi andiamo a chiedere ulteriori carte. Facciamo ancora una carta. Eccola qua. Allora, abbiamo l'imperatore al contrario, il nove di spade, l'otto di denari e il fante di coppa al contrario. Sul fondo del mazzo abbiamo il matto. Come primo acchito, diciamo, posso dirvi che con l'energia del matto abbiamo un'energia che ci indica il fatto di buttarsi in qualcosa di nuovo. Quindi probabilmente quando avete conosciuto questa persona è perché vi siete buttati in qualcosa di nuovo oppure conoscendo questa persona vi siete buttati in qualcosa di nuovo. Per alcuni di voi questa cosa risuonerà, per altri no, comunque per la maggior parte dovrebbe risuonare. È come se aveste, diciamo, dato una nuova opportunità voi stessi con questa persona. Dopo che magari avete passato un periodo di stasi, non un bel periodo, ecco, insomma. Questa persona è come se fosse una nuova opportunità. Con l'imperatore al contrario vedo che con questa persona ciò che vi accade è che riuscite per un attimo a mettere da parte la mente razionale e non dover sempre mantenere il controllo su quello che è la situazione, l'interazione, come vi presentate a questa persona. Quindi questa persona, come dire, con questa persona più che questa persona in sé, vi permette questa persona, sì, ma anche voi stessi, di non presentarvi più con una sorta di maschera, diciamo, nel senso con una personalità magari forte che dovete mostrare, no? Quindi non vi sentite in dovere o comunque in bisogno di dover dimostrare di magari avere qualcosa che non avete, come appunto magari una forza se state soffrendo. Non vi sentite in dovere dimostrare di essere forti se magari in realtà siete fragili oppure non vi sentite di dover essere necessariamente magari, che ne so, delle persone interessanti, brillanti, sempre attive, sempre gioiose, no, assolutamente, perché vi sentite di potervi mostrare per ciò che siete, vi sentite di potervi aprire a questa persona in modo totalmente autentico. Questa è una cosa bellissima, io vedo tanta sofferenza che sia vostra che dell'altra persona, quindi probabilmente voi avete un passato molto disastroso, molto sofferente, un carico da 90 sulle spalle che ancora purtroppo vi portate, e invece quella persona, allo stesso tempo non invece, questa persona ha anch'essa un carico non indifferente, quindi avete incontrato una persona molto compatibile con voi in realtà, una persona che vi può capire perché appunto ha lo stesso fardello sulle spalle, quindi quando vi parlate l'intesa c'è immediatamente, e ripeto può trattarsi anche di amicizia, di insomma anche magari un collega o un partner, assolutamente. Io vedo che con questa persona voi vi sentite, avrete la possibilità di scoprire voi stessi, avrete la possibilità di andare a indagare quello che è il vostro inconscio, perché questa persona, così senza magari farlo apposta, però è come se vi desse degli input per quanto riguarda voi stessi, quindi magari così, tranquillamente, monariamente, vi parla di cose che in realtà parlano di voi, quindi magari vi capiterà di fare dei discorsi con questa persona su alcune tematiche che non avete mai affrontato da soli, quindi che non siete mai riusciti ad affrontare tra voi e voi, ma questa persona ne parlerà liberamente, quindi questa persona sarà propensa verso l'apertura mentale, verso lo scoprirsi, e questa persona vi influenzerà positivamente, io questo vedo, in questo ambito. Con il Fante di Coppe al contrario vedo che avete una propensione, avreste una propensione verso il sognare, ma in questo momento è come se vi bloccaste, cioè nel senso è come se aveste perso la capacità di sognare, in un certo senso. Quindi, per esempio, anche se avete incontrato questa persona, che è molto stimolante per quello che abbiamo visto con l'otto di denari, e allo stesso tempo con l'imparatore al contrario vi permette di farvi vedere per ciò che siete, quindi per finalmente aprirvi una persona che non vi giudica se mostrate le vostre fragilità, nonostante questo voi avete perso totalmente la fiducia nel mondo e nelle persone, non vi sentite più di voler sognare in un certo senso, ok? Allora, adesso andiamo a vedere con gli altri tarocchi di avere dei dettagli aggiuntivi. Abbiamo il 3 di denari, il Fante di bastoni, Il Rai di Coppe Mi è caduto tutto il mazzo Ok, due carte che sono cadute dal tavolo, ovviamente non vogliono essere... vogliono farsi vedere E l'appeso Allora, sul fondo del mazzo abbiamo La Regine di Spade al contrario La Regine di Spade al contrario è un grosso monito per voi Cioè, è un consiglio, diciamo, no? Un indirizzamento verso Una filosofia nuova di pensiero Perdonatemi, vorrei avere il termine corretto perché può veramente esprimere cosa voglio dire La Regine di Spade per voi è il contrario in questa stesa, in questo mazzo e sul fondo del mazzo così vuole essere più che altro un consiglio un indirizzarvi verso un nuovo stile di pensiero un nuovo modo di pensare Perché? Perché la Regine di Spade al contrario mi dice che c'è troppa rigidità nel vostro pensiero nel vostro pensare siete troppo rigidi pensate che solamente perché avete avuto delle esperienze prima che vi hanno abusati che vi hanno causato traumi che vi hanno letteralmente traumatizzati perché questo è quello che vedo con la carta del 9 di Spade Nonostante questo non significa che tutte le persone che incontrerete saranno così Siete traumatizzati da quello che è successo e lo capisco perché è lecito assolutamente però ora non potete chiudervi al mondo non fidandovi più di nessuno neanche di chi non conoscete bene da poter da poter dire che non potete fidarvi il consiglio della Regine di Spade visto che la Regine di Spade è comunque un'energia che c'è in questa carta quindi non è un annullamento è semplicemente al contrario vi dice sì è giusto avere la vostra come dire rigidità per quanto riguarda le persone tossiche quindi quando incontrate delle persone tossiche è giusto avere la vostra rigidità è giusto perché perché vi permette di proteggervi però voi state rischiando con i traumi che avete subito di andare veramente a fare terra bruciata intorno a voi perché tutte tutte le persone che arrivano ci vedete qualcosa di male ci vedete del manipolatorio ci vedete del tossico ok quindi il consiglio della Regine di Spade è il contrario è questo di provare a cercare di conoscere le persone perché tanto anche se poi dovessero veramente rivelarsi essere come voi temete quindi tossiche persone che vi vogliono fare del male anche se si rivelassero così voi adesso ce l'avete la capacità di riconoscerle appena una persona ha un atteggiamento tossico voi lo capite immediatamente e siete immediatamente in grado di andarvene di mettervi in salvo e soprattutto di non attaccarvi emotivamente a quella persona no? quindi di preservarvi da quello che è l'attaccamento emotivo non vi attaccate più alle persone emotivamente e se avete la tendenza a mettere al centro del vostro mondo quando incontrate qualcuno con cui vi trovate bene questo cercate di non farlo quindi cercate comunque di mantenere la vostra routine la vostra vita anche se c'è quella persona anzi cercate di far entrare quella persona chiunque egli sia o essa sia come un surplus un più un in più rispetto a quello che è già la vostra vita questo vi permetterà e soprattutto vi garantirà di non avere più brutti scherzi dalle persone perché anche se le persone sono tossiche e man mano che le conoscete magari vi siete frequentati che ne so per due o tre mesi per dire e dopo due o tre mesi vi rendete conto che quella in realtà è una persona tossica potete tranquillamente in quel momento prenderla e buttarla fuori dalla vostra vita e credetemi che quello che vuole dire questa carta è questo credetemi che non avrete nessun tipo di di ripercussione su di voi cioè non starete più male come quando avete dovuto buttare fuori delle persone tossiche precedentemente dalla vostra vita questo è quello che mi dice questa carta quindi non vi precludete la possibilità di conoscere nuove persone solamente perché avete avuto dei traumi cercate comunque di entrare in contatto con le persone tanto ripeto quelle almeno date la possibilità a quelle che meritano di entrare nella vostra vita perché è anche bello avere delle persone che meritano intorno e invece credetemi che avrete assolutamente la capacità di riconoscere immediatamente le altre il 3 di denari mi dice che mi dice che se state aspettando l'abbondanza questa carta mi dice che sta arrivando e soprattutto che questa persona con voi vorrebbe costruire qualcosa di concreto una soprattutto una come dire lavorare sulla mental health quindi lavorare sulla vostra sanità mentale insieme lavorare su abbiamo visto prima che entrambi arrivate da un passato veramente traumatico ok quindi questa persona vi vede come una possibile alleata o un possibile alleato per guarire insieme quindi per starsi vicino per costruire concretamente un equilibrio mentale un come dire un equilibrio un equilibrio mentale perché probabilmente vi vede come una persona che può portare nella sua vita più equilibrio e voi vedete questa persona allo stesso modo probabilmente vi siete incontrati proprio per questo quindi questa persona è una persona io direi premiante una persona che è consapevole di se stesso o se stessa non vi sto a dire che non abbia nessun lato tossico perché questo non lo sappiamo nel senso che soprattutto è molto difficile che una persona che una persona non abbia lati tossici perché tutti ne abbiamo chi più chi meno tutti abbiamo qualcosina qualche lato tossico quindi questo assolutamente questo assolutamente sì l'importante è che non siano cose pervasive quindi magari un qualcuno spettro patologico ecco in questo caso la persona fa polpette di quello più empatico ma quello che vedo io qui è che sia voi sia questa persona avete degli aspetti sani empatici e assolutamente in grado di costruire una relazione equilibrata una relazione nella quale ci sia scambio d'amore incondizionato che sia amicizia ripeto che sia partner tutto ma avete anche dei lati tossici dei lati che autosabutante eccetera quindi ma questi due lati voi siete perfettamente in grado sia voi per voi stesse sia quella persona per se stessa di tenerveli per voi quindi di non andare a fare del male all'altro con questi lati ok spero di essere spiegata il paggio di bastoni mi dice che questa persona come dire vi dà dei cenni vi dà dei cenni di voler entrare nella vostra vita dei piccoli cenni non è non è troppo invasiva invadente cioè non è che appena vi siete conosciuti vi ha proposto di non so organizzare una vacanza insieme vi faccio un esempio stupido è una persona che sa entrare in punta di piedi nelle vite degli altri quindi questo è molto importante voi state facendo la stessa cosa o comunque vi viene naturale perché dopo tutto quello che avete passato vi viene naturale però vedo che questa è una persona che non sta entrando come dire eruentemente nella vostra vita e invece voi avete già vissuto situazioni nelle quali altre persone entravano in maniera eruenta nella vostra vita e sapete quanto sia tossico perché sì la stravolgono la vostra vita però comunque portano anche della tossicità perché come entrano in questo modo se ne vanno lasciando scompiglio e non va bene la cosa migliore è sempre entrare in punta di piedi nella vita delle persone e questa persona sta facendo proprio questo inoltre ho un'altra bellissima carta che è il re di coppe il re di coppe è una persona premiante vedo un'energia maschile quindi per tanti di voi potrebbe essere un'energia maschile se siete donne o anche se siete uomini assolutamente e comunque vedo un'energia maschile voi sapete di cosa sto parlando potrebbe essere un uomo o potrebbe essere una donna con una prevalenza di energia maschile però è un'energia maschile premiante un'energia maschile protettiva nei vostri confronti un'energia maschile che vi vi aiuta vi supporta vi nutre ok quindi non è un'energia tossica assolutamente anzi un'energia che vi dà amore incondizionato un'energia maschile che vi dà amore incondizionato che probabilmente vi insegnerà anche ad agire a passare all'azione in quelle che sono i vostri sogni potrebbe essere che magari questa persona vi apra a nuove conoscenze vi aiuti nella realizzazione di qualche sogno vi aiuti vi consigli non in maniera ripeto ossessiva e devi fare così perché io la penso così no dimenticate questo perché questa persona è l'opposto cioè questa persona vi può dire guarda secondo me io la penso così e voi se volete potrete prendere spunto altrimenti no questa persona non vi obbligherà assolutamente a fare quello che vuole lei o lui e sarà come dire uno spunto un esempio per voi di crescita su tante cose e voi sarete un esempio di crescita per questa persona su tante altre cose perché io qui vedo anche una persona umile molto umile che sa imparare dagli altri inoltre abbiamo l'appeso che ci indica che c'è bisogno di vedere le cose sotto un altro punto di vista ragazzi ve lo dico chiaramente e questo è riferito a voi quindi vuol dire che ripeto come ho detto prima probabilmente voi siete traumatizzati da quello che vi è successo prima non vi fidate più di nessuno e non potete credere che sia arrivata una persona premiante nella vostra vita o che sia arrivata una persona che ripeto ha questa energia qua che è positiva quindi è come se nonostante ce l'aveste davanti continuasse a pensare ma no tanto guarda anche questa persona farà farà cagare anche questa persona mi farà del male tanto vedrai c'è come dire anche qui c'è la fregatura ecco ecco voi pensate così ma l'appeso mi dice proprio di l'appeso mi dice proprio di cambiare cambiare prospettiva ok cambiate prospettiva se non riuscite a cambiare prospettiva ricordatevi di questo appeso di oggi che vi ha detto che in realtà voi dovreste cambiare prospettiva ovvero in altre parole ricordatevi di aver visto questo appeso oggi e che vi ha detto che in realtà ciò che voi pensate non è esattamente così quindi potreste sbagliarvi non dico che vi sbagliate al 100% perché è un interattivo però comunque prendete in considerazione 50-50 l'idea di sbagliarvi su questa persona e che magari in realtà potrebbe essere una persona positiva per voi ok mi arriva un'altra cosa a livello intuitivo cioè stavo dicendo l'appeso ma più volte mi è venuto a dire l'impiccato e l'impiccato è una figura che non esiste nei tarocchi ma ovviamente mi indica mi indica la morte insomma cose brutte e l'arcano di scelta era questo quindi io vi dico ragazzi che purtroppo voi se non vi aprite il mondo andrete sempre per sprofondare nel senso che questo è molto forte mi rendo conto da dire ma se non vi aprite al mondo è di nuovo la speranza che ci siano persone positive ci possano entrare persone positive nella vostra vita e che ci siano voi finirete in un baratro dal quale è poi difficile uscire energie molto pesanti quindi attenzione cercate di cambiare prospettiva e vedere vedere dove 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 c'è qualcosa di positivo perché c'è qualcosa di positivo voi avete dato tantissimo avete anche se avete del karma da scontare direi che lo avete scontato quindi adesso dovete soltanto raccogliere il vostro d'arma non pensiate che sia tutto brutto che tutti vi vogliano fare del male che tutti vogliano farvi qualcosa di brutto ora andiamo a vedere con gli oracoli un consiglio per voi ok allora un sì che ci dà una conferma ulteriore a tutto ciò che abbiamo detto in questa stesa ragazzi quindi anche gli angeli ci vogliono dire che quello che abbiamo letto è vero andiamo a vedere un'altra carta avete il supporto degli angeli avete l'aiuto degli angeli e vi dirò di più probabilmente questa persona vi è stata mandata anche proprio da loro quindi per risollevarvi da una situazione magari anche brutta della vostra vita nel prossimo futuro quindi come tempistica però voglio andare a vedere anzi ragazzi andiamo a vedere con i tarocchi scusate sono uscite le carte ok vabbè andiamo a vedere prima queste e poi andiamo a vedere con i tarocchi allora persone che vi aiuteranno poi abbiamo un incremento della guarigione aspetta compromesso e fidati allora tutte queste carte vanno veramente a ribadire ciò che abbiamo detto perché abbiamo praticamente ci sta una frase questa ovvero allora nel prossimo futuro incontrerai delle persone che ti aiuteranno che saranno ti saranno di aiuto per incrementare la tua salute mentale quindi incrementare il tuo benessere visto che adesso non stai bene tu incontrerai nel prossimo futuro queste persone che ti aiuteranno in questo però aspetta trova un compromesso con te stesso perché tu ti devi fidare quindi in sostanza aspetta e datti del tempo per non buttarti subito ma ne indietreggiare perché e sei come spaccato in due cioè una parte di te ti direbbe buttati in questo rapporto con questa persona perché andrà tutto bene hai visto anche la stesa l'ha detto eccetera no un attimo aspetta perché se no finisci per creare poi tu un rapporto tossico e non vogliamo questo quindi quello che mi dice l'oracolo è aspetta prendi tutti i tempi perché tu devi trovare un compromesso cioè un compromesso tra il tuo mondo interiore e il mondo esteriore cioè il mondo esterno quindi devi avere dei momenti in cui sei tu e dei momenti in cui sei con quelle persone è molto probabile da questa carta che questa persona ti presenterà ti farà conoscere altre persone della sua cerchia che si riveleranno appunto persone che ti faranno stare bene però devi assolutamente prenderti del tempo per te non abbandonare la condizione di solitudine nella quale sei trovato magari per tanto tempo perché ti è necessario per capirti a 360 gradi capire le tue paure capire le paure che ti inchiodano quindi quelle che abbiamo visto prima del fatto che hai paura che tutti ti facciano del male tu devi trovare un compromesso con queste paure e dirti se ti posso dare un consiglio che come diceva la regina di spada al contrario all'inizio della stesa anche se incontrerai una persona tossica tu sarai in grado di riconoscerla e di scappare hai sviluppato tantissimo l'istinto l'intuito in quelle relazioni tossiche lì che hai passato precedentemente quindi il compromesso secondo me che puoi trovare è quello di ascoltarti di fidarti di te stesso te stessa di quello che senti ma di non prevenire di non perdere la speranza perché tu hai perso la speranza di trovare delle persone buone positive e infatti incrementare la fiducia fidati più che altro fidati dell'universo fidati degli angeli e fidati di queste forze perché ti vogliono mandare veramente delle persone adesso premianti e vedrai che se riuscirai a fare questo riuscirai a fidarti anche del mondo del resto delle persone sul fondo del mazzo o se ci credi quindi ci devi credere in questa fiducia devi avere fiducia ci devi assolutamente credere io ragazzi vi chiedo ancora soltanto una carta dei tarocchi per chiudere la stesa ma direi che abbiamo già assolutamente la nostra risposta la risposta per quanto mi riguarda è sì potete fidarvi assolutamente potete andare tranquilli l'unica cosa cercate di non buttarvi subito così a capofitto cioè nel senso non buttarvi mettendo da parte tutta la vostra vita perché se siete avete insomma avete vissuto relazioni tossiche probabilmente potreste essere dei dipendenti affettivi e un dipendente affettivo per antonomasia eccola qua la carta un dipendente affettivo per antonomasia che cosa fa? va a mettere da parte tutta la sua vita i propri interessi quello che gli piace i suoi tempi i suoi tempi come dire ritagliati per se stesso no? i tempi suoi i momenti suoi per l'altro ecco non fate questo non fate questo ragazzi perché è la cosa più sbagliata e questo anche se poi avete davanti una persona sana va a creare un rapporto tossico questo atteggiamento va a creare un rapporto tossico quindi attenzione a questo il 2 di di bastoni mi dice la carta appunto che abbiamo aperto adesso mi dice che state andando verso assolutamente un livello successivo quindi anche se non ci credete questo è la privorta per un livello successivo della vostra evoluzione assolutamente l'evoluzione ma io vedo che c'è anche qualcosa di passione quindi potrebbe essere magari un partner potrebbe essere che incontrerete o che questa sia la persona anche importante per voi e potrebbe anche riguardare invece un altro aspetto quindi l'aspetto delle passioni dal punto di vista del lavorativo insomma di realizzazione personale queste persone potrebbero stimolarvi tantissimo per ritrovare la passione in tanti aspetti della vostra vita quindi ripeto quello erotico insomma sessuale oppure anche proprio l'aspetto del magari la creatività ecco in questo senso ok io spero di essere stata utile ragazzi noi ci salutiamo e ci vediamo domani alle 20 con un nuovo video io vi aspetto se vi è piaciuto lasciatemi un like e ci vediamo domani vi abbraccio ciao ciao ed eccoci qua con la stesa numero 2 voi avete scelto il donuts la ciambella la ciambella quindi andiamo a vedere se vi potete fidare di questa persona allora andiamo prima con i tarocchi per ottenere le informazioni principali potete fidarvi di questa persona allora abbiamo un po' di carte il 4 di spade al contrario poi abbiamo il 2 di spade la luna al contrario il 10 di coppe e il mondo molto bene allora sul fondo del mazzo abbiamo il 3 di bastoni allora il 3 di bastoni mi fa vedere voi che cosa avete fatto riferito a questa persona ovvero probabilmente voi vi siete date ve la siete data a gambe da questa persona vero vi siete dileguati da quello che che era la compagnia e l'ambiente di quella persona avete per un periodo interagito ma poi vi siete ve la siete telata si dice da noi avete telato ve ne siete andati adesso vediamo se avete fatto bene oppure se non avete fatto bene se non c'era motivo allora il 5 di denari mi dice che avete da subito voi avete visto un'opportunità in questa persona quindi potrebbe essere un contesto lavorativo un contesto amicale parentale o parentale la vedo la vedo difficile però manca un partner ecco voi avete visto una un'opportunità in questa persona quando l'avete incontrata avete pensato guarda magari questa persona può essere una buona diciamo una partenza per me per stare meglio no quindi magari un nuovo partner con cui ricominciare una nuova amicizia per cominciare magari a non so siete magari in un periodo nel quale non conoscevate tante persone e volevate riaprirvi a nuovi giri di amicizie avete conosciuto questa persona per esempio oppure avete trovato un nuovo lavoro avete conosciuto questo capo barra collega ecco voi avete trovato un'opportunità però purtroppo vi è sempre un po' inquietato nel senso vi è sempre inviato delle vibes non molto positive delle vibrazioni non molto positive delle sensazioni non molto positive nonostante questa persona fosse molto molto gentile nei vostri confronti fosse no positiva no nel senso si ponesse a voi in modo molto gentile a volte anche regalandovi qualcosa o non so facendovi dei doni facendovi dei dei favori vedo molto questo in questa in questa stesa però questi favori o questi questi doni voi li vedevate come se vi stesse portando poi dopo sulle spalle un macigno perché sostanzialmente è un po' la questione del io ti do non disinteressatamente ma io ti do perché mi aspetto che prima o poi tu mi ridi in cambio voi questo è quello che avete percepito da questa persona ma ora andiamo a vedere se è vero o no con il 4 di spade al contrario io vedo che non ci sono stati conflitti con questa persona quindi voi vi siete semplicemente allontanati cioè nel senso avete tastato il territorio avete visto com'era come si comportava questa persona magari l'avete frequentata o comunque siete stati nella stessa situazione in rapporto con questa persona se magari siete stati del lavoro per un qualche tempo quindi potrebbe trattarsi di qualche mese io vedo qua per alcuni di voi 4 mesi o 4 settimane corrigliotemi se sbaglio ma solo per alcuni ovviamente questo non non vuol dire che lo dico solo perché per alcuni potrebbe risuonare ma se non è così non vuol dire vedo che avete dicevo capito dentro di voi alcune cose e poi non siete andati a confrontarvi con quella persona semplicemente quando avete visto delle cose che non vi andavano bene o avete subodorato delle brutte vibrazioni nell'ambiente ve ne siete andati e basta avete avete ripeto come ho detto prima con il 3 di bastone avete tagliato la corda boom avete semplicemente fatto scemare così la frequentazione non dicendo niente a quella persona io vedo con il 2 di spade che questa persona vi vedeva come se voi foste bendati cioè vi vedeva come se voi vi credeva una persona facile da imbrogliare quindi vi credeva facili da da circuire ma con la luna al contrario vedo che voi a un certo punto vi siete svegliati avete visto tutto questa dinamica probabilmente questa persona magari ha fatto delle cose o ha detto delle parole ha detto delle frasi delle cose un po' strane che vi sono appunto puzzate un po' vi sono sembrate un po' strane e quindi vi siete destati da quella che era la vostra tranquillità con cui in realtà voi avevate iniziato questo rapporto questa frequentazione o questa cosa quindi voi vi siete destati da questo e non eravate più come vi vedeva questa persona senza dire niente perché siete stati molto bravi in questo ma voi avete tolto di mezzo tutta la confusione quindi se prima eravate titubanti non sapevate però avevate delle brutte vibrazioni però in realtà non capivate se questa persona era poteva farvi del male o meno perché perché questa persona in realtà era gentile vi faceva favori ecco tutte queste cose creano confusione naturalmente quindi voi avete come dire a un certo punto dato ascolto al vostro intuito che in realtà sentiva ripeto brutte vibes e vi siete detti senti sai che c'è chi se ne frega io ho da evitare di di star male me ne vado cioè che devo far devo star qui fino che questa persona non mi non mi fa veramente del male per accorgermi che magari non è una persona da quale fidarmi ecco quindi praticamente avete avete deciso di andarvene io quello che vedo qui è che dopo praticamente aver preso questa decisione veramente anche se voi avete ancora dei dubbi adesso perché vedo che ci sono ancora dei dubbi che dopo andremo a chiarire con gli altri tarocchi ma vedo che nonostante voi abbiate preso questa decisione vi chiedete ancora se avete fatto bene se avete fatto male se avete diciamo preso la decisione giusta o se avete solo mal pensato riguardo a quella persona quindi magari quella persona veramente non voleva farvi niente ma voi ve ne siete andati ecco questo è quello che vedo però il vostro inconscio vi sta dicendo che in realtà ha tolto tutta la confusione quindi voi avete visto chiaramente chi era quella persona il 10 di coppe mi dice che dopo questo voi avete aperto una una nuova delle nuove opportunità per voi quindi sostanzialmente avete aperto dei nuovi scenari e infatti c'è anche il mondo che è uno dei più belli arcane del del mazzo che mi dice che voi avete assolutamente il le opportunità adesso nel senso togliendovi di torno delle opportunità che l'universo vi aveva mandato solamente per vedere se voi eravate in grado o meno di come si dice allontanare ciò che non vi fa bene perché a volte l'universo fa anche questi giochetti qua ci manda delle persone che non vanno bene per noi per dimostrare a noi stessi che noi siamo in grado di mandarle via e che noi non abbiamo bisogno di quelle persone che preferiamo scegliamo di stare con noi stessi piuttosto che con persone che ci possono solo creare del male sostanzialmente una volta che sei in grado di fare questo l'universo ti manda delle opportunità giuste quindi ripeto il decilicoppe e il mondo adesso io vedo però un'altra lettura che probabilmente potrebbe essere la canalizzazione di qualche vostro pensiero ovvero io vedo che in realtà voi avete percepito questa persona come una persona pesante come una persona che non vi ispira fiducia non ci avete assolutamente ripeto avuto conflitti ma poi quello che mi arriva è anche che voi potreste aver frainteso tutto avere una benda sugli occhi e non vedere la realtà che in realtà questa persona non è assolutamente una persona manipolatoria e che questa persona in realtà è una persona della quale potete fidarvi non c'è nessun intento non c'era nessun intento oscuro dietro quella persona e in realtà questa persona vi avrebbe donato questo quindi adesso visto che ci sono queste due contrastanti visioni andiamo un po' a chiarire con i tarocchi ulteriormente ok è esploso il mazzo dunque e poi andremo ancora anche con gli oracoli allora abbiamo il re di pentacoli al contrario ragazzi io quello che vi posso dire è che secondo me non è che fosse proprio una persona così affidabile non lo so paggio di coppe mi dice una persona infantile questo sicuramente andiamo a vedere con altre carte è di nuovo uscito un infante di coppe sì magari è semplicemente una persona molto infantile andiamo a vedere scusate per la confusione di questa stesa sono proprio le carte che ok abbiamo l'imperatrice al contrario l'imperatrice al contrario mi dice che voi avete perso il controllo sui vostri pensieri a causa di questa situazione e poi abbiamo il 3 di denari il 3 di denari mi dice che avete assolutamente come dire avete bisogno di recuperare la vostra concretezza mentale ok probabilmente l'avete perduta con questa situazione ma andiamo ancora a vedere allora il fante di bastoni mi dice che probabilmente avete fatto un'azione avventata quindi siete stati impulsivi nell'allontanarvi da questa persona e il fante di bastoni al contrario mi dice che siete proprio andati cioè insieme queste due carte mi dicono che voi siete andati proprio per estremo cioè siete stati impulsivi siete allontanati ve ne siete andati di botto non siete più non avete più fatto marcia indietro quindi quello che è successo è che con questa persona avete siete stati avventati ora ho capito perché ci sono state due letture così diverse nella stessa lettura come vi ho fatto vedere prima con gli altri tarocchi la prima cosa che mi è arrivata è ciò che voi avete visto interpretato ma poi mi è arrivato anche mi è arrivato anche quello che in realtà è quindi voi avete interpretato male ecco con il 3 di bastoni allora voi avete interpretato male quello che questa persona ha fatto ma ci sono dei motivi per i quali l'avete interpretato male se per esempio si tratta e ve ne siete andati cioè ad andarvene via avete fatto bene o comunque i motivi per i quali ve ne siete andati sono giusti adesso andiamo a vederli allora se si tratta di un contesto lavorativo voi non volevate stare lì non volevate stare a lavorare lì ma non per non per colpa di questa persona magari non vi piace il lavoro non vi piace il posto in cui lavorate non vi piace quello che fate quindi magari voi in realtà avete delle altre aspirazioni per esempio il fatto di lavorare fare un altro mestiere quindi diciamo che la mente molto spesso mente inganna quindi sostanzialmente quello che vi ha fatto la vostra mente è uno scherzetto perché vi ha detto che questa persona era una persona da cui allontanarsi allontanatevi da quella persona vi siete allontanati anche da quel contesto lavorativo e quindi la conseguenza è che dovete cercare un altro lavoro la conseguenza è che è più probabile che voi andiate a cercare adesso un lavoro che vi piace ok quindi in sostanza non era sbagliata quella persona ma era sbagliata quel contesto non so se mi sono spiegata a volte il cervello fa questi scherzetti per farci fare le cose giuste per noi la cosa migliore sarebbe stata non prendersela con quella persona o comunque non dare non attribuire a quella persona i motivi per i quali ci si allontanava ma semplicemente capirsi meglio e capire che magari quello non era il lavoro adatto a noi quindi semplicemente ci siamo allontanati per questo motivo se invece si tratta di un partner potrebbe essere che non era quella persona ad essere manipolatoria o volesse farci del male ma noi magari non vogliamo essere in una relazione per esempio le persone che stanno guardando magari non vorrebbero intimamente anche se razionalmente lo credono attenzione ma nel profondo non vorrebbero costruirsi una relazione adesso perché magari ci sono altre cose che vorrebbero fare non lo so magari vorrebbero viaggiare per il mondo vorrebbero esplorare vorrebbero prima capire che cosa fare della vostra vita anche magari lavorativamente eccetera prima di trovare un partner fisso quindi non avere il vincolo di avere un partner adesso sto facendo degli esempi ma potrebbe veramente essere qualsiasi cosa ci sono miliardi di motivi per i quali una persona non vuole legarsi a nessuno per un periodo della sua vita ed è più che lecito anche se magari la solitudine fa paura però in realtà il vero desiderio della vostra anima era quello lì quindi quello che avete fatto è stato diciamo vedere quella persona come una persona da allontanare proprio perché ripeto in questo modo vi siete allontanati anche dalla relazione e quindi anche dal vincolo capite? ma la cosa migliore da fare in questi casi sarebbe guardarsi dentro e capire che la realtà è che si vuole semplicemente andare verso altre cose non necessariamente dovendo magari imputare qualcosa a quella persona o insomma avercela con quella persona o non risolvere le cose con quella persona ecco in questo senso però io vedo che voi ripeto non avete avuto conflitti semplicemente ve ne siete andati quindi è normale cioè potreste tranquillamente recuperare magari un non so un contatto però non necessariamente per frequentare quella persona in modo assiduo se invece si tratta di amici magari che ne so quegli amici frequentandoli vi portavano in un determinato o quell'amico o quell'amica vi portavano in determinati contesti che a voi non piacciono perché non vi trovate bene magari però quella persona non è una persona malintenzionata o comunque non è una persona che vuole farvi del male semplicemente vi faccio un esempio voi ascoltate musica rock e questa persona ascolta musica dance non lo so sono semplicialmente a caso questa persona pur non essendo una persona con magari delle brutte intenzioni però tendeva magari a portarvi sempre in ambienti nei quali voi non state bene perché non è il vostro ambiente voi vorreste fare altro ed è giusto comunque impiegare il proprio tempo per fare delle cose che ci piacciono impiegare il proprio tempo per stare con persone che troviamo più affini a noi quindi è assolutamente giusto in realtà ripeto allontanarsi da questa persona però è giusto anche capire le reali motivazioni per le quali si fanno le cose ok quindi questo è quello che mi mi arriva in ogni caso avete fatto la scelta giusta sappiate solo che non dovete avere paura di quella persona piuttosto che non dovete odiarla non dovete insomma evitare assolutamente di averci dei contatti perché non era non era così non era una persona che vi fa del male era semplicemente una persona che che non è compatibile con voi ecco cioè tutto qua o il lavoro non era compatibile con voi è solo non compatibilità più che qualcosa di peggio sono felice di darvi questa 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 notizia perché sicuramente vi solleverà però allo stesso tempo vi incito a non ricostruirci un rapporto come prima con questa persona perché il vostro inconscio se vi ha fatto questo scherzetto e se vi ha fatto andare verso un'altra direzione c'è un motivo perché questa direzione nella quale siete andando adesso è quella giusta e quella lì non era quella giusta era una direzione che non vi avrebbe portato a niente sostanzialmente però non è imputabile nulla di brutto a quella persona ecco per chiudere la stesa abbiamo inoltre il 3 di bastoni il 3 di bastoni mi dice che con questa comprensione degli eventi probabilmente avrete anche più chiarezza mentale quindi quando vi capiterà di nuovo sarete in grado di non attribuire sempre il male a qualcuno ma invece capirete che semplicemente siete voi che volete altro perché non è che dobbiamo sempre essere passivi nella vita possiamo anche essere noi attivi nel senso che possiamo essere anche noi che diciamo di no ad alcune cose ad alcune persone diciamo di no ad alcune opportunità perché no perché potremmo anche possiamo scegliere tra le opportunità che ci arrivano non dobbiamo sempre per forza coglierle tutte perché dobbiamo avere paura che se no non arrivano più no possiamo scegliere ci sono delle opportunità che ci vanno a genio persone lavori amicizie di tutto e di più e ci sono anche delle opportunità che non ci piacciono che non ci vanno bene che non sono compatibili con noi e che possiamo assolutamente rifiutare ragazzi ok probabilmente voi dovete imparare questa lezione magari voi quando rifiutate qualcuno o qualcosa vi sentite in colpa come se magari come dire aveste cioè perché no come dire vi dite perché dovrei rifiutare chi sono io per rifiutare questa cosa cioè magari non lo so mi è arrivata per sono stato fortunato fortunata perché mi è arrivata questa persona piuttosto che questa opportunità perché chi sono io per rifiutarlo no non è vero perché se non siete compatibili perché dovreste utilizzare il vostro tempo prezioso per quei rapporti ok quindi prendete coscienza di questo e vedrete che non imputerete più a nessuno niente semplicemente farete le vostre scelte in maniera totalmente autonoma e in maniera totalmente consapevole ora andiamo a chiedere agli oracoli un consiglio anche se direi che abbiamo il risponso che strana questa variante perché all'inizio stavo dicendo un'altra cosa e poi è totalmente cambiato l'energia nella stesa e l'ho proprio avvertito e infatti poi c'è stata tutta un'altra spiegazione agli eventi comunque spero che vi sia stata utile che vi abbia fatto comprendere magari più così che che in altri modi ragazzi perché siamo andati insieme a fare il lavoro che fa l'appeso quindi l'arcano dell'appeso che è quello che sovverte il punto di vista e abbiamo fatto insieme questa cosa qua esatto vedi questo va a confermare tutto quello che ti ho detto scegli una nuova direzione assolutamente ovviamente si riferisce a questa persona o questo contesto o questo lavoro però già l'hai fatto già te ne sei andato ma il consiglio degli angeli è scegli una nuova direzione rispetto a questa cosa o questa persona o questa situazione non è la direzione giusta non era la direzione giusta assolutamente non per i motivi che immagini ma non era la direzione giusta quindi senza odio senza rancori senza paura senza niente senza sensi di colpa semplicemente prendi una nuova direzione perché è la cosa migliore sul fondo del mazzo abbiamo guarda c'è pure questa c'è qualcosa di meglio proprio le carte che ti parlano le carte che ti parlano scegli una nuova direzione c'è qualcosa di meglio per te è proprio è proprio un rafforzativo di ciò che siamo andati a dire assolutamente ok io spero di esserti stata utile spero che ti sia servito questo video per sovvertire un po' il tuo pensiero che magari poteva essere un po' in confusione non stavi tanto bene con quello che pensavi o con quello che percepivi noi ci vediamo domani alle 20 con il nuovo video con un nuovo video e niente se ti è piaciuto lasciami un like così mi evita a sopportare il canale io ti abbraccio e ci vediamo domani ciao ciao ciao